Lolo, una finale meravigliosa, una prima medaglia per le ragazze che comunque vincono una medaglia, un giorno di riposo e poi un altro sogno, un'altra avventura. Sì, ma il bello penso è vedere giocare queste ragazze assieme, esprimono un qualche cosa di straordinario. Poi è chiaro che la conseguenza può essere bellissima come una vittoria, come magari in altri momenti no, però penso che il come fanno le cose, il come stanno in campo, il come giocano, il come recuperano dai momenti di difficoltà, il come sfruttano i momenti buoni, è un qualche cosa di straordinario. Una cosa da vedere da fuori che mi ha impressionato è l'inattaccabilità psicologica, tecnica, nel senso, come hai detto, il recupero, la possibilità di ricreare, la possibilità di variare, di cambiare soluzioni, la completezza della rosa. Eh, ma penso che in questo Giulio abbia fatto un lavoro straordinario. Quindi penso che le ragazze, sotto le sue indicazioni, sotto i suoi sistemi, i suoi metodi, le sue idee di inallenamento, le ha portate a un punto dove la consapevolezza della loro forza è altissima. Invece per te personalmente questo piccolo derby col sorriso con Carl Schirali domenica? No, non è un derby né mio, né della panchina, né di tutti. È l'Italia che ha l'opportunità di entrare ancora di più nella storia della pallavolo mondiale, oltre a quello che lo è già dopo questa vittoria. E quindi cercheremo di dare il massimo del nostro contributo affinché le ragazze possano sviluppare ancora di più il loro potenziale. Grazie a tutti.